Soldato nemico individuato! Soldato nemico individuato! Soldato nemico individuato! Soldato nemico individuato! Non c'è nessuna vita, no! Occhio! Grazie a te! Laggiù! Un assaltatore di vita! No! Vieni! Un assaltamento! Via! Non ti affronti il carro! Non lo vede! Abbiamo perso l'obiettivo, Charlie. Obiettivo perso! Il nemico ha il vantaggio! Non devono conquistare questo obiettivo, difendiamolo! Quello è l'obiettivo, dobbiamo conquistarlo! Abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie. Via, via! Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Blanc, un ricognitore nemico! Sto perdendo l'obiettivo Charlie. Siamo sotto attacco e mantegniamo la posizione! Restringiamoci! Medico nemico individuale! Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Proiettili! Sì, ecco qui! Abbiamo perso l'obiettivo bravo. L'ho preso l'obiettivo! Ecco qui un po' di munizio! Ecco qui un po' di munizio! Abbiamo perso l'obiettivo ils! Abbiamo perso l'obiettivo the nosso type! Abbiamo perso l'obiettivo Alpha! Acchio, un medico nemico! Acchio, acchio, acchio! Mi servono proiettili. Ecco le munizioni. Lancio una granata, occhio! La nostra artilleria sta trattenendo il nemico, ritirati! E' un'altra spia! Ich flicke dich zusammen. Granate ist raus, holt zu! Willi' die Wunde mal ansehen? Il nemico sta avanzando. Hier, erste helfe. Erste helfe, greif zu! Mach was du hast! Feindlicher Speer ergesichtet! Soll ich dich wieder zusammenflecken? Maschinengewehr, eindeutig feindlich! Ich versag deine Wunden! Erste helfe! Eindeutig feindlich! Eindeutig feindlich! Eindeutig feindlich! Erste helfe! Eindeutig feindlich! Erste helfe! Erste helfe! Erste helfe! Eindeutig feindlich feindlich! Eindeutig feindlich! Erste helfe! Erste helfe! Eindeutig feindlich! Abbiamo trasmesso l'artiglieria alle coordinate del nemico. Per dich, Kamerad. Erste Hilfe. Abbiamo conquistato l'obiettivo Bravo. Sontate l'assaut ennemi. Restate alerte. Sontate l'assaut ennemi. Restate in alerta. Sontate l'assaut ennemi. Restate in alerta.